Il museo di Montalbano è un'iniziativa del sindaco Enzo Giannone che però trova l'opposizione della CGL, i segretari cittadini e provinciali Antonio Modica e Beppe Scifo hanno scritto una lettera al primo cittadino. Droga, arresti tra Modica e Pozzallo, due distinte operazioni hanno permesso di arrestare cinque sfacciatori a Pozzallo, una operazione a Modica. Cassa, arrivano i sostituti dopo l'avvertenza e dopo l'annullamento dell'indagine, sono stati nominati dal Consiglio di amministrazione del Cassi, direttori dei lavori e del RUP in sostituzione dei due sospesi perché indagati dalla Procura di Messina. La memoria del giudice Falcone nel ricordo della sorella, il 23 maggio ricorre il 25esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato in cui furono assassinati il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. Nuova edizione del nostro telegiornale, benvenuti a tutti i nostri telespettatori, dunque lo avete ascoltato dai titoli in apertura ci occupiamo della polemica che è nata nella città di Scicli e che concerne il famosissimo commissario Montalbano perché è volontà dell'amministrazione comunale di creare un museo da destinare proprio al ricordo della fortunatissima serie tv di Rai 1. Una presa di posizione da parte dell'amministrazione che non piace alla CGL perché i locali che avrebbe individuato l'amministrazione secondo la CGL sarebbero da destinare ad altro. Viviana Sammito E questa è la stanza di Montalbano all'interno del commissariato di Vigata al piano terra del municipio di Scicli che già di par sé un museo lo è. Su proposito della Palomar, casa produtrice della serie tv, la sede dell'ex camera del lavoro diventerà un museo con anche tutti gli strumenti per girare un set, inclusa un'operazione di merchandising, tutto ciò che può servire a promuovere la fiction del commissario Montalbano. Un'idea che aumenterebbe l'interesse e la curiosità dei turisti e di un'intera comunità con un inevitabile riscontro positivo in termini turistici e un importante giro di affari che si attesterebbe sui 300 mila euro l'anno che sarebbero divisi tra Comune e Palomar e darebbe lavoro anche ai giovani. Imboccare alla via del museo con i benefici che questa scelta potrebbe avere soprattutto in chiave di sviluppo economico, in chiave di ritorno economico perché c'è già una sorta di business planning, insomma si pensa di ricavare in un anno almeno 300 mila euro e con i tempi che corrono insomma 300 mila euro sono bei soldini e anche la possibilità di creare posti di lavoro per giovani che per esempio possono uscire dall'istituto turistico di Scicli. Se da un lato Montalbano è ormai il simbolo di Scicli come la stanza del sindaco, nota come l'ufficio del questore, i piani passi del municipio per la CGL hanno un'altra identità che nulla centra con il lato economico. L'ex Camera del Lavoro rappresenta il centro del confronto delle lotte agricole, dei partigiani, quei locali al pian terreno che fino ai primi del novecento ospitavano il circolo dei nobili. Dopo la guerra erano stati assegnati alla Camera del Lavoro diventando il simbolo del riscatto sociale di quel territorio. Il sindacato tramite il sederio provinciale Peppe Scifo e quello cittadino Antonio Modic ha proposto di creare un centro di documentazione multimediale sul movimento operaio, democratico e pacifista nei locali che rappresentano la rivalza del popolo sciclitano sulla nobiltà. Chiediamo che non venga cancellato questa memoria storica e che sia data possibilità di una fruizione pubblica per la collettività di questo posto, ripetendo che non siamo assolutamente contrari all'istituzione del Museo Montalbano. Non è una rivendicazione che facciamo per noi, parliamo e siamo entrati nel merito dell'utilizzo di un posto. Il sindaco Enzo Giannone che dei valori di sinistra ne ha fatto un modello politico essendo lui stesso di quella formazione insieme con tutta la sua famiglia ha chiedito che farà di tutto per trovare una sintesi. Cercheremo di trovare una sintesi, io penso che tutti i soggetti in campo, l'amministrazione comunale, con un sindaco che peraltro è un sindaco, giusto dirlo, di sinistra, insomma un sindaco che è molto legato ai valori della storia della nostra città e quindi poi la CGL ma anche altre presenze nella città che hanno una certa idea di quel luogo e dall'altra parte gli interessi, le idee di sviluppo che possono venire da altre associazioni, le metteremo tutte attorno a un tavolo e cercheremo democraticamente, come si fa in questi casi, di trovare la soluzione. E continuiamo a parlare del commissario Montalbano, lo facciamo però cambiando territorio da Cicli ci spostiamo nel territorio di Santa Croce Camerina, nello specifico nella frazione Riverasca di Punta Secca perché una frazione presa d'assalto dai fan del commissario Montalbano che in questi giorni sta girando nuove scene per due nuovi episodi. Carmela Minardo. Il servizio non è ancora pronto, andiamo avanti, apriamo la pagina dedicata alla cronaca. Continuano da parte della DIA di Catania i controlli ispettivi nelle aziende al fine di verificare possibili infiltrazioni mafiose, la gestione dei lavoratori e dei mezzi. L'ultimo controllo ha riguardato un impianto di estrazione di pietre da costruzione di Priolo Gargallo nel Siracusano. Gli uomini della Direzione Investigativa Antimafia di Catania, nell'ambito dei compiti istituzionali di monitoraggio delle imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche, hanno effettuato un accesso ispettivo presso l'impianto di estrazione operante nella Cava Sita Priolo Gargallo nel Siracusano, esattamente a Contrada Mostringiano, di proprietà della società all'ISA, lavorazioni, inerti, salonia e serelle. Questa ditta si occupa di estrazione di pietre da costruzione, nonché di produzione e di vendita di calcestruzzi, di conglomerati bituminosi, di conglomerati cementizi, di materiali da cava e di materiali per l'edilizia in genere. Il controllo della DIA, effettuato in sinergia con il gruppo Interforce, istituito presso l'ufficio territoriale del governo di Siracusa, è composta da rappresentanti alla stessa DIA della Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, nella Direzione Territorio del Lavoro, è finalizzato a prevenire le infiltrazioni mafiose nei cantieri di lavoro. Gli accessi alle aree di cantiere, effettuati nell'occasione in collaborazione anche con il personale del distretto minerario e del decimo settore, territorio ambiente e libero consorzio comunale di Siracusa, sono stati effettuati in maniera tale da non ostacolare la normale attività lavorativa e ha permesso il controllo di operai e mezzi riconducibili alle imprese destinatari dei controlli. Ancora la cronaca in primo piano, arresto da parte della Polizia di Stato a Modica, preso di mira un pusher in piazza Matteotti. La Polizia del Commissariato di Modica ha arrestato Rajib Mihah, 22enne del Bangladesh, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, diretti dal dottore Nico Demoli-Otti, hanno notato durante il loro giro di controllo nei pressi della piazza Matteotti, il giovane nascondere qualcosa. I poliziotti hanno visto questo atteggiamento alquanto nervoso al loro passaggio con la volante e in loro è nato un forte sospetto che da lì a poco sarebbe stato confermato. Gli agenti, infatti, hanno subito bloccato il giovane che, come era semplice intuire, nascondeva della droga. Nello specifico, il ragazzo aveva con sé una stecchetta di hashish del peso di 2,5 grammi e 80 euro in banconote da 20, ritenuto provento dell'attività di spaccio di droga. La Polizia ha esteso la perquisizione all'abitazione del giovane. All'interno della casa sono state trovati due trita erba. Il giovane vive con la propria famiglia, che risulta essere, dagli accertamenti posti in essere dal commissariato di Via Cornelia, irregolare sul territorio nazionale in riferimento al permesso di soggiorno. Alla fine degli accertamenti, il 22enne è stato associato al carcere di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria, davanti la quale dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ancora attività a contrasto dell'attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti in territorio ebleo, questa volta i carabinieri della Compagnia di Modica hanno arrestato cinque persone, due distinte operazioni che si sono registrate a Pozzallo, a portare a termine l'operazione, gli uomini delle stazioni rispettivamente di Marina di Modica e Pozzallo. Cinque ragazzi, tutti di età compresa tra i 18 e i 21 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Modica, nello specifico facenti parte della stazione di Pozzallo e della stazione di Marina di Modica, in due diversi blitz antidroga nella città di Pozzallo. I cinque sono stati sorpresi con numerosi grammi di hashish e marijuana. La prima operazione è scattata lunedì pomeriggio, dopo numerose segnalazioni di movimenti sospetti nei pressi di alcune zone della città marinara. I primi controlli sono scattati all'interno di un garage, dove i carabinieri hanno notato un continuo via vai di giovani. Il sospetto poi si è rivelato fondato perché i militari dell'arma hanno trovato in totale 150 grammi di marijuana, suddivisa in dosi singole, pronte per essere vendute, 50 euro di banconote e il tutto nascosto all'interno di un barattolo vuoto di vernice. I tre erano tutti incensurati e dopo le formalità di rito sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Nel secondo blitz, invece, scattato in tarda serata, i carabinieri hanno preso di mira una coppia di fidanzati che girovagava in una piazza di Pozzallo. Dalla perquisizione la ragazza è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico con la lama intrisa di hashish e di due dosi della stessa sostanza. Nell'abitazione della coppia poi i militari dell'arma hanno trovato 90 grammi di hashish, 6 grammi e mezzo di marijuana, materiale vario per il taglio, la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente e la somma di 700 euro in contanti di vario taglio, provento di attività illecita. Anche in questo caso si tratta di due incensurati pozzallesi sottoposti adesso agli arresti domiciliari. Tutta la droga è stata sequestrata. Dal territorio di Pozzallo ci spostiamo ad Acate dove i carabinieri della compagnia di Vittoria, capitanata dal capitano Daniele Plebani, hanno aperto un fascicolo di indagine nei confronti di 27 genitori che, secondo le indagini, non avrebbero mandato i figli a scuola. In un primo momento ad accorgersi di questo particolare erano stati i docenti che l'hanno segnalato ai dirigenti scolastici degli istituti di appartenenza che a loro volta hanno comunicato, una volta aumentati in maniera spropositata i giorni di assenza, il tutto all'arma dei carabinieri. 20 bambini e ragazzi, di età compresa tra i 7 e i 15 anni, avevano l'abitudine di non andare a scuola. Il tutto è successo ad Acate. Una scoperta fatta in primo luogo dagli istituti di appartenenza dei giovani, ma poi comunicate e fatta approfondire dall'arma dei carabinieri. La compagnia di Vittoria ha indagato infatti su 27 genitori. In un primo momento la cosa è passata in sordina, ma quando le assenze sono diventate davvero troppe, sono entrate in azione i militari dell'arma, i quali, al termine di una prima fase di attività di indagine, hanno denunciato i genitori all'autorità giudiziaria per inosservanza dell'obbligo di garantire l'istruzione ai figli minori. Un obbligo in molti casi disatteso, soprattutto per la superficialità con cui viene ancora considerata la formazione scolastica. L'attività di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica, fa sapere il capitano della compagnia dei carabinieri di Vittoria, Daniele Plebani, non è conclusa. Le indagini infatti vanno avanti e per i prossimi giorni non si escludono ulteriori sviluppi. Si sta in particolare cercando di far luce anche sulle motivazioni che hanno indotto questi giovanissimi studenti a non frequentare più la scuola. Una particolare attenzione che l'arma impegnata su tutto il territorio dedica con una costante opera di controllo dentro e fuori le scuole, al fine di prevenire l'insorgenza di devianze minorili. Adesso facciamo un passo indietro nel tempo, torniamo al nostro secondo servizio che è adesso pronto. Parlavamo infatti delle riprese in questi giorni a Punta Secca per i nuovi due episodi del commissario Montalbano in giro per la frazione Riverasca Carmela Minardo. Buongiorno, sapevate che c'erano le riprese del commissario Montalbano? Certo, siamo venuti apposta. Speravate di incontrare dal vivo il commissario? Siamo qui per questo. E anche tutto il resto della troupe vengono, qui si prendono un bel caffè. Qual è stato l'effetto? E' emozionante perché non l'abbiamo mai visto dal vivo, quindi fa un po' più effetto. Spera di incontrare Luca Zingaretti? Sì, diciamo che sarebbe quello che aspiriamo, però comunque sono delle zone da vedere, da visitare, poi il tempo in questi giorni aiuta, per cui fa comunque piacere venire qua. Tutti conoscono la casa di Montalbano e in molti vogliono andarci in vacanza. Ma quando parte il ciac per le riprese di una nuova produzione, il popolo dei fan non resiste e presidia quella casa sulla spiaggia, icona di una Sicilia bella e affascinante che la penna di Camilleri ha saputo far conoscere in tutto il mondo. A Punta Secca, frazione di Santa Croce Camerina, dove il regista Sironi ha collocato un pezzo della vigata dipinta dalla fantasia del grande scrittore siciliano, entusiasmo e partecipazione affiancono la fatica delle maestranze e le performance di attori e comparse. Nascono qui in questi giorni due nuovi episodi. La giostra degli scambi ed uno tra amore e la prova generale, a scelta come sempre del grande romanziere che esercita anche la supervisione sulla fiction tv. Fuori dal balcone della casa del commissario Montalbano è tutto pronto per iniziare le riprese dei nuovi episodi. Così come è pronta anche la tipo del commissario più famoso d'Italia. Ma è uguale a quello che vediamo in televisione. È un po' una parte di noi perché penso che tutti vediamo lo sceneggiato di conseguenza. Essere sul posto è emozionante. Lei da dove viene? Da Como. Lei sapeva che c'erano le riprese di Montalbano in questo periodo? No, non lo sapevamo. Volevamo vedere anche la zona di Montalbano, quindi siamo venuti. Come la trovate? Bello, la zona è bellissima. Siete venuti qua perché sapevate che c'erano le riprese di Montalbano? Eh sì, abbiamo letto e sapevamo che c'erano queste riprese. Poi comunque eravamo in zona, quindi perché non fare un salto? Come trovate i luoghi di Montalbano? Siamo appena arrivati, dobbiamo ancora renderci conto un po' di come sono le cose. Comunque penso che sia stata anche una fortuna per questi luoghi che hanno avuto l'opportunità con questa cosa di essere rivalutati sicuramente. Una piccola speranza di incrociare il commissario più famoso d'Italia? Perché no? Se fosse possibile sì, almeno farci una foto. Vengo dal Lago Maggiore. Siete venuti qui per vedere Montalbano, sapevate che c'erano le riprese? No, le riprese no, eravamo venuti per visitare il paese, la casa, la zona diciamo. Come trovate questa zona della Sicilia? Ah, bella, mi piace più che altro, ho visto che all'interno è molto bello. Ma c'è anche chi non conosce la famosa serie TV e viene a Punta Secca solo per le bellezze naturalistiche. Oh, è una locazione bellissima, è incredibile, è incredibile. Ieri la festa della liberazione è celebrato il 25 aprile a Ragusa su iniziativa della prefettura Iblea in collaborazione con l'amministrazione comunale di Ragusa. Il corteo ha percorso le vie principali del centro storico in cui poi sono state apposte corone di fiori in ricordo dei caduti. Anche a Ragusa ieri è stato celebrato il 25 aprile nel 72esimo anniversario della liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dalla dittatura fascista, organizzata come negli anni scorsi dalla prefettura di Ragusa in collaborazione con la locale amministrazione comunale. Il corteo, composto dalle autorità civili, militari e religiose, dai rappresentanti delle locali associazioni combattentistiche d'arma dopo aver reso onore alla stelle dell'unità d'Italia, ha percorso le vie principali del centro storico lungo le quali sono state deposte corone di fiori alle lapidi in memoria del tenente Lena, dei braccianti agricoli caduti in occasione dei fatti del 9 aprile del 1921 e del milite ignoto posto sulla facciata del palazzo comunale per poi raggiungere piazza San Giovanni dove sul sagrato si è tenuta la fase conclusiva della cerimonia. Presenti anche un gruppo di giovani diversamente abili ai quali il prefetto ha voluto estendere l'invito per sottolineare che il 25 aprile è la festa di tutti. Di particolare rilevanza sono stati poi i momenti celebrativi dinnanzi al monumento in memoria dei caduti per la patria sul sagrato della cattedrale di San Giovanni Battista con la benedizione impartita dal parroco della cattedrale Don Gino Alessi e la deposizione della corona di alloro da parte del prefetto Maria Carmela Librizi e del sindaco di Ragusa Federico Piccitto. Sono stati nominati dal consiglio di amministrazione del CAS i direttori dei lavori e del RUP in sostituzione dei due sospesi perché indagati dalla procura di Messina con l'accusa di peculato per aver beneficiato dei fondi legati alla premialità per progetti ritenuti viziati. La filea CGL parla di dimostrazione che si vuole procedere velocemente verso la conclusione dei lavori sull'autostrada Siracusa. Gela. Il nuovo direttore dei lavori del CAS e consorcio autostrade siciliana è l'ingegnere civile dell'ANAS Filippo Modeo e responsabile del RUP della sicurezza e l'ingegnere del CAS Salvatore Pirrone già a lavoro da due giorni. I due sono stati nominati dal consiglio di amministrazione del CAS a seguito della sospensione dei due dirigenti, Gaspare Sceosa e Angelo Puccia, a causa della misura cautolare messa dalla procura di Messina che li ha individuati come responsabili di peculato per avere beneficiato dei fondi legati alle premialità per progetti ritenuti viziati. L'inchiesta gettava ombre sul procedimento della realizzazione del lotto a Rosolini in modica della Siracusa Gela, pertanto al fine di evitare il rischio del blocco dei lavori il CAS ha provveduto a nominare due dirigenti. Delle nuove nomine è soddisfatto Franco Cascone, segretario della fila CGL, perché a causa dell'indagine il cantiere rischiava di subire una fase di arresto. Adelso il segretario Cascone si augura che venga subito liquidata la somma in riferimento al mese di dicembre dalla Cosige, la ditta che ne ha fatto i lavori dell'autostrada, che resta da promessa entro marzo e che potrebbe essere da disponibile in queste settimane. I sindacati comunque vigileranno su tutto l'iter della realizzazione dei lotti per fare consegnare in tempi brevi l'importante opera alla comunità. 35 minuti dopo le 14 c'è la pubblicità tra poco. 41 minuti dopo le 14 siamo tornati in diretta con la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo con la commemorazione al giudice Falcone. Il 23 maggio ricorre il 25esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato in cui furono assassinati il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato e tre uomini della scorta. Per non dimenticare una delle pagine più buie della nostra storia, i sette Lions della provincia di Ragusa hanno promosso un evento a cui ha preso parte tra le altre la sorella del giudice Falcone, protagonisti gli studenti di sette istituti scolastici. Io ho il conforto di poter dire che sicuramente, nonostante tutto il dolore che ha procurato a tante famiglie, purtroppo c'è la famosa face, gli eroi servono. Sono serviti anche a mettere in movimento un'Italia che sembrava per certi versi addormentata. Certo, la mafia è tutt'altro che debellata, anzi tante aree dell'Italia sono state infiltrate dalle cosche, ma se oggi la più pericolosa e aggressiva è l'andrangheta, mentre in Sicilia dopo la stagione di Riina Provenzano e Matteo Messina Denaro, l'azione di contrasto ha prodotto innegabili successi, si deve anche a quel sacrificio e alla mobilitazione delle coscienze che esso ha generato. 25 anni dopo, Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso, continua ad innaffiare l'albero della ribellione alla piaga mafiosa, laddove esso può dare i suoi frutti migliori, tra i giovani, nelle scuole, nei luoghi in cui si formano i futuri cittadini. Per non dimenticare il tema dell'incontro, promosso dai sette Club Lions Siblei, cui, oltre a Maria Falcone, hanno preso parte giudice Claudio Maggioni, presidente della sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Magistrati e il governatore del Lions Sicilia, Vincenzo Spata. Giovanni diceva sempre che la mafia è un fatto culturale, quindi non può essere combattuta soltanto attraverso l'azione dei giudici, delle forze dell'ordine. A livello culturale è necessario che la scuola, le famiglie, creino i giovani questa attenzione a quanto sia importante avere nei confronti delle varie mafie un atteggiamento di ripulsa. Ricordato l'impegno di Giovanni Falcone anche con la proiezione di documentari, quindi un corteo di studenti si è mosso da Piazza Libertà fino a Palazzo di Giustizia dove è stata svelata una targa al ricordo delle vittime della mafia. Quest'anno è il venticinquesimo anniversario della morte, questo potrebbe fare un po' svanire l'importanza proprio per il passare del tempo e quindi in qualche modo dobbiamo assolutamente rinvigorire questo ricordo, soprattutto lasciando ai giovani l'importanza di questo momento che non è soltanto il 23 maggio, i giorni precedenti o successivi, ma è la necessità di tenere presente il sacrificio di queste persone e di farne momento di riflessione e soprattutto stimolo per poter lottare contro ogni forma di violenza e di criminalità. Resta confermata la data di giugno per la consegna del nuovo pronto soccorso dell'ospedale maggiore di modi che è quanto dichiarato nel corso di un incontro tra il sindaco della città della Contea, Ignazio Abate, e il manager dell'ASP, Maurizio Aricò. Una volta terminato l'intervento relativo al pronto soccorso, i lavori continueranno per il parcheggio e il completamento dell'ala abbandonata da anni. Quest'ultimi interventi, commenta il sindaco Abate, sono attesi da anni e miglioreranno sensibilmente la fruizione del nostro ospedale. A breve, inoltre, partiranno anche i lavori di sistemazione del poliambulatorio di Via Vittorio Veneto. Lo sport schio vince gara 4 e centra la finale play-off 2016-2017 nella quale sarà opposta a Lucca nella serie al meglio delle 5 partite dove aver pareggiato i conti al Palaromare Ragusa ha ceduto infatti le due partite casalinghe alle campionesse d'Italia che sono scese in campo con il piglio della grande squadra che hanno portato a casa meritatamente la serie. Stagione finita dunque per la passalacqua che da qui a poco ricomincerà a programmare il prossimo futuro. 14 e 45 minuti è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie come sempre per averci scelto, vi ricordo che MTG torna alle 20 e 30 subito dopo di noi, oltre alla notizia con Angelo Di Natale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS